Racconto d'arte, benvenuti a questo nuovo appuntamento, il nostro, il vostro appuntamento con la storia dell'arte italiana, un appuntamento quotidiano che questa settimana abbiamo deciso di dedicare ai vostri suggerimenti. E allora l'artista scelta per oggi suggerita da voi è Lavinia Fontana, nata a Bologna il 24 agosto del 1552 e morta a Roma l'11 agosto del 1614. È stata una pitrice italiana del tardo manierismo ma viene soprattutto ricordata per essere stata la prima donna non solo a dipingere una pala d'altare, bensì ad aver dipinto il primo nudo femminile, Minerva nell'atto di vestirsi. Ed è questa proprio l'opera che abbiamo scelto tra i vostri suggerimenti di approfondire e analizzare oggi insieme a voi. Quest'opera li fu commissionata dal cardinale Scipione Borghese e fu eseguita nel 1613, data certa come suggerisce sia l'iscrizione dipinta sotto il piede dell'amorino seduto, sia il pagamento del cardinale Scipione emesso in favore di Annibale Fontana, il padre dell'artista. L'opera, acquistata da Scipione o a lui probabilmente donata, fu certamente dipinta a Roma dall'insigne epittrice bolognese, come abbiamo detto la Vigna Fontana, questo perché? Perché ce lo suggerisce proprio l'opera stessa. Intravediamo infatti la cupola della Basilica di San Pietro proprio sullo sfondo, nascosta in parte da una parete scura che mette in risalto le delicate fattezze della Dea della Sapienza. Il soggetto rappresenta un'insolita raffigurazione della Dea, della Dea Minerva, come abbiamo detto Dea della Sapienza ma anche delle arti, protettrice secondo la mitologia delle tessitrici a cui sembrano proprio alludere le pregiate stoffe che la divinità sta per indossare. Ricordiamo infatti che viene raffigurata Minerva proprio nell'atto di vestirsi. Ai suoi piedi si riconoscono lo scudo e un'armatura che insieme alla civetta raffigurata sul davanzale tra i rami d'ulivo e l'elmo che tiene in mano la Morino, rientrano proprio tra i suoi tipici attributi iconografici ovvero gli oggetti che la tradizione attribuisce a questa Dea. Secondo Silvia Urbini il soggetto di questo quadro affonda le sue radici proprio nelle immagini degli dei degli antichi di Vincenzo Cartari e anche nelle simboliche questiones di Achille Bocchi un testo pubblicato proprio a Bologna nel 1555 arricchito anche da diverse incisioni di Andrea Alciati e Giulio Bonasone che probabilmente furono proprio alla base dell'ispirazione del tema di questo quadro. Alcuni anni prima della sua realizzazione, siamo nel 1604-1605, la pittrice dipinse proprio una tela analoga attualmente conservata presso la collezione Pavirani di Bologna e che lì fu commissionata da Marco Sittico al tempo il cui nome è stato recentemente rintracciato proprio da Patrizia Tosini nel poema composto da Ottaviano Rabasco nel 1605 intitolato proprio la pallade ignuda della famosa pittrice Lavinia Fontana. La commissione di questa tela sicuramente eseguita tra Bologna e Roma è legata senza dubbio alla Minerva in atto di abbigliarsi, richiesta appunto qualche anno dopo come abbiamo detto da Scipione Borghese che probabilmente dopo aver visto il dipinto in casa al tempo richiese alla pittrice un soggetto simile che sicuramente però non sfigurava dinanzi alle altre divinità, ovvero la Dea Venere che comunque era già una divinità presente nella sua ricca collezione. Ecco, Lavinia Fontana quindi ha rappresentato il primo esempio di donna che non solo ha dipinto una pala d'altare, quindi un soggetto religioso, un dipinto a carattere religioso bensì si è distaccata poi totalmente da questa fase, da questa ispirazione alla religiosità per dedicarsi alla raffigurazione dei nudi. Il primo fra tutti appunto Minerva nell'atto di vestirsi. Come potete ben vedere c'è poco dei tratti di ispirazione mitologica in quest'opera sembra proprio più che una Dea, una donna nell'atto di vestirsi, proprio l'incarnazione della donna probabilmente della donna di quel tempo, non sappiamo bene Lavinia Fontana in realtà a chi si è ispirata a parte appunto i dipinti suggeriti da Scipione Borghese che poi fu colui che li commissionò al dipinto ma sicuramente si ispirò a una donna in carne ed ossa, scusate, non ad una divinità ecco perché appunto spesso la critica ha sottolineato questa particolarità ovvero come potete ben vedere la donna, la donna in carne ed ossa quindi non espressioni di perfezione come può essere appunto la raffigurazione di una Dea ovviamente mantenendo come abbiamo detto quegli oggetti tipici della Dea Minerva quindi abbiamo l'elmo, tutti quegli oggetti che richiamano o meglio più che la Dea Minerva richiamano la tradizione che ha descritto questa Dea in possesso di questi oggetti emblematici della sua figura allora io vi ringrazio per essere stati con noi, siamo giunti al termine di questa puntata siete sempre in tantissime a seguirci e per questo vi ringrazio, vi ricordo i nostri contatti le pagine social Facebook e Instagram di Spazio Notizia e Sicilia 24 ovviamente scriveteci lì, suggeriteci tutte le opere e gli artisti che volete approfondire insieme a noi e saremo lieti di farlo grazie ancora una volta per averci seguito, racconto d'arte, torna domani grazie a tutti